Ciao e benvenuti in questo nuovo video, finalmente, finalmente il comic book shelf tour è finito Abbiamo iniziato a girarlo veramente poco poco prima di iniziare a fare gli scadoli a Roma Infatti mi dispiace, le riprese sono un po' quello che sono Però ricordatevi il delirio del trasloco, quello che abbiamo passato Quindi in realtà, bravi noi, è venuto fuori comunque un video decente, spero Ovviamente il video del comic book shelf tour non è completo Non è completo perché come al solito ho una parte dei miei vecchi manga in soffitta Michele ha molti 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 fumetti ancora a casa del padre E poi nel frattempo, come ben sapete, abbiamo comprato e ci sono arrivati un sacco di altri fumetti Quindi aspettatevi una versione aggiornata probabilmente l'anno prossimo Già alla parete qua che vedete alle mie spalle ci sono tantissime cose nuove che non vedete in questo video Ma appunto, recupereremo prima o poi, spero E io infatti sono in realtà qui semplicemente per augurarvi una buona visione Buona visione! Purtroppo eravamo nel bel mezzo del trasloco, quindi non siamo riusciti a riprendere per bene le librerie Abbiamo recuperato però queste riprese dall'home tour Le librerie dei fumetti erano divise in questo modo La libreria dei manga all'ingresso alta fino al soffitto La libreria degli americani, dove ci sono anche un po' di francesi italiani Alta anche questa fino al soffitto Con accanto una piccola libreria di manga Un mobile sotto la finestra in salone E una bill in salone accanto al maledetto mobile Iniziamo con la mastodontica libreria dei manga Allora, qua sopra e dietro ci sono delle serie italiane Quindi intruso nella parte manga Ho un po' di Dampir, qualcosa di Giulia Questa edizione di Ken Parker Poi c'è Metamorfosi di Giacomo Bevi l'acqua Qualcosa delle storie Svariati in umani zero di Longway Che è una serie a cui lavoravo Ci stanno queste edizioni Praticamente delle storie migliori prodotte dalla Disney negli ultimi anni Negli ultimi anni intanto, tipo gli ultimi vent'anni Ci sta Fable in questa versione Non mi piace tantissimo Fable in bianco e nero C'è Ypsilon, l'ultimo uomo Che non mi piace tantissimo in queste edizioni Infatti tutte e due li voglio riprendere a colori Invece è bellissimo Constantine nella versione in bianco e nero Perché i colori dell'origine sono terrificanti Questo ripiano è veramente tanto tanto imbarcato Se non si sta per spezzare Abbiamo un po' di artbook presi in Giappone Come per esempio Vediamo un po' tutti quanti Oddio non sono tutti quanti in realtà Mi manca il 4 e il 5 I salti dog di Raminekura Che è sempre l'autrice di Sayuki E tutti quanti i suoi backgammon Sono messi in ordine Sbagliato perché c'è il 3, l'1 e il 2 Non me ne sono accorta Questo invece è edito da Planet Manga Che è l'artbook del Castello Erranti di Auro Che è veramente bellissimo Dentro ci sono tutti quanti disimpeparatori Schizzi, rispondi Questo bellissimo di Tiger e Bunny Che è un anime che adoro Con dentro il capitolo disegnato da Katsura Che si è occupato del character design Di tutti quanti i personaggi Guardate che bello Guardate che bello che è Kotatsu Stupendo Poi abbiamo Kaori Yuki Perché naturalmente oltre al manga Non potevo non comprare l'artbook Non potevi? Non potevo E poi ho un po' di artbook delle Clamp Cose di Zelda La guida di Zelda Guida di Kingdom Hearts Vari artbook e riviste giapponesi E qua ho un po' di Dojinshi Che ho preso a Tokyo Vedete questa Pagata al prezzo scandaloso di 1080 yen Ed è di Gusari Che è una delle mie autrici preferite Ed è su Oikawa È una Dojinshi di Aikyu E poi c'è l'artbook invece di Old Xan Che aveva anche un poster dentro Ed è veramente bellissimo I disegni sono stupendi Proprio delle cose pazzeschissime Nel ripiano più in alto E non so perché abbiamo Noki Urasawa così in alto Nella prossima libreria Sarà chiaramente ad altezza uomo Abbiamo Monster Il mio manga preferito in assoluto Insieme a Slambunk direi che siamo quasi in parità E Pluto Altro bellissimo manga di Noki Urasawa Che probabilmente è il più grande mangaka della storia Questa nuova edizione di Sakura Delle Cramp E là dietro c'è praticamente tutta l'infanzia e l'adolescenza di Fiore Con tutti i suoi manga da femmina Si può dire ancora manga da femmina Qui abbiamo max edizione di Akira Che ho comprato quando andavo al liceo Perché mi sono davvero sforzata tanto per riuscire a prenderla Ah comunque se vedete che le riprese di questi scaffali sono un po' strane È per questo motivo Lei sta là sotto E io ho messo il cavalletto sopra a un tavolo Poi abbiamo una max edizione di Giungito Qua diciamo che abbiamo messo tutti i nostri maxi formati Maxi Giungito e Maxi Inio Sano Con il suo artbook edito da Panini E Il Campo dell'Arcobaleno Che è un volume unico E poi naturalmente abbiamo l'omnibus fighissimo di Gonagai di Devilman E questo bellissimo omnibus di Matsumoto Altro ripiano dedicato a uno dei miei autori preferiti Che ho conosciuto con questo volume unico Alive di Tsutomu Takashi Che ho imparato poi ad amare grazie a un fumetto che ora qui non c'è Che occupava questo spazio Che è Tetsuan Girl Che ho prestato a Michele ma ve ne parlerò quando ve lo mostreremo E ho recuperato poi tutto quanto Sido Storia samurai bellissima Detonation Island Che invece sono stata inventata negli anni 80 Con motociclisi Con un bando di motociclisi Ma voglio leggere Esatto è stupendo Parla proprio la storia di questa banda di Yankee Fichissima E poi in realtà qui dietro C'è il fumetto con cui proprio l'ho amato di più Che sai che è un fumetto che ho letto anche io al tempo Mi piace tantissimo Bellissimo Gireshin ed è la storia di questo detective Tokyota molto freddo, molto figo E in pratica in ogni volume ci sono almeno due o tre storie autoconclusive Poi invece gli ultimi volumi, gli ultimi Tankomon sono una storia insomma continuativa È stata una storia unica, veramente bellissimo È un po' difficile da recuperare Però anche questo super consigliato Qua sopra un fumetto veramente pazzo e fuori di testa Molto violento, molto splatter Ma che io ho amato tantissimo Proprio durante la mia adolescenza questo è stato il mio fumetto preferito E si tratta di M.P.D. Psycho E non saprei bene come spiegarvi la trama Dico solo che il protagonista è un detective che soffre di personalità multiple E poi la cosa diventa molto pazza Potremmo dire che è una specie di antesignano della serie di Hannibal Assomiglia molto, vero? Sì, tantissimo Anzi, in realtà c'è un intero episodio di M.P.D. Psycho Che secondo me hanno proprio copiato nella serie di Hannibal Eh, perché tra l'altro questo qua è uscito in Italia nel 2004 Però in Giappone è uscito già da parecchio E poi vabbè, il mio feticcio di ragazzino Visto che c'era scritto che non potevo leggerlo Lo volevo leggere assolutamente Berserk Di cui tutti naturalmente ricordano la prima parte e meno la seconda Anche se in realtà io sono sempre molto critico sul fatto che secondo me non finisce con Con il sacrificio Con il sacrificio Secondo me le due run dopo il sacrificio sono comunque molto molto belle Poi effettivamente sì, lo ammetto anch'io, si è molto perso Molto perso Io sono tra l'altro scontentissima che tu ce l'abbia Perché prima di conoscerci era uno degli acquisti che stavo ponderando di fare Ah, fantastico Qui abbiamo Demon Slayer, la nuova edizione di Slumdunk Poi abbiamo un po' di Ine Osano e poi abbiamo le nostre due collezioni dell'Immortale Messe insieme che però non è completa lo stesso No, non è comunque completa Ci stanno dietro altri numeri dell'Immortale che sono della collezione di Fiore Un po' dei miei e abbiamo mischiato fondamentalmente Qua dietro uno dei miei manga comici preferiti in assoluto Ovvero Detroit Metal City Hanno fatto una serie anime carinissima e un film veramente fantastico E poi le canzoni originali sono fichissime, quindi dovete recuperarlo E poi da questa parte abbiamo questa edizione di Jojo Sopra un altro dei miei autori preferiti, ovvero Katsura Con il suo Zetman Che è anche questa prima metà molto buona Poi sul finale saranno passate anche degli anni Farà un volume e l'altro Molti anni Quindi si è un po' perso Naturalmente non può mancare la prima edizione di Videocart Lai Un altro dei miei autori preferiti, ovvero Takiko Inoue Qua abbiamo Vagabond e poi a Maratea Vedrete abbiamo anche Real Qua dietro invece c'è la vecchia edizione di Dragon Ball La prima se non sbaglio, quella con la costa azzurra Che ho comprato nel 96 Nel 96 hanno inquinato mia sorella Ed è tutta quanta Qui invece un altro pezzo di storia Ovvero la primissima edizione di Lamu Che aveva la costa tigrata Se guardate questi due scaffali Penserete che sono pazza Perché qua abbiamo una serie di shoujo Perché a scuola E qua saper abbiamo Gans e One Punch Man Però in realtà devo ammettere che se dovessi scegliere Sceglierei Gans Da questa parte abbiamo Io Sakisaka Che è una mangaka che fa shoujo Mi è sempre piaciuto moltissimo il sottoratto Il proprio classico shoujo vecchio a scuola Ambientato a scuola E adesso invece dobbiamo confessare il nostro sporco segreto Ovvero tutta questa libreria In realtà ha delle doppie file Doppie file che noi nasconderemo Perché ci sono delle cose che chiaramente non dobbiamo mostrare qua dietro No vabbè lo mostro perché questo è veramente un pezzo da museo Questo fumetto avrà più di vent'anni di sicuro Ed è Fushigi Yugi Allora questa cosa è molto molto strana Ma sai che l'ho letto anche io? Ma perché all'epoca c'erano pochi manga E questo era uno shonen con della romance Quindi poteva chiaramente acchiappare il doppio pubblico Poi invece da questa parte abbiamo Lovely Complex Che è molto molto carino Molto divertente Io comunque non sono un'esperta di shoujo manga Però questo lo consiglio perché fa veramente ridere La serie parla di due ragazzi che si odiano Sono tipo un duo comico Perché lei è altissima e lui è bassissimo E poi naturalmente scoppia l'amore E non ci fai vedere tutto il resto delle cose là dietro? Eh tutto Fushigi Yugi Cioè dietro penso che ci sia altra Yuwatase Che è l'autrice appunto Tutti quanti sui manga che adesso sono introvabili Quindi anche se non li leggo più Comunque mi ritengo perché metti caso E li voglio far leggere a qualcuno prima o poi E invece qua abbiamo tutto Furuba Ovvero Fruits Basket Che è un fumetto che ovviamente tengo tantissimo Perché all'epoca per me 4,40 euro erano tantissimi E quindi ci ho messo tantissimo a comprarlo tutto quanto Anche perché era una serie di 23 numeri E all'inizio sembrava un fumetto molto carino e divertente Poi è diventata invece una tragedia Quindi ogni numero era non so Un colpo al cuore, lacrime, dolori, sofferenze Mi ricordo che con le mie 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 proprio Usciva un numero Andavamo in fumettere a comprarlo E ci chiedevamo di che morte saremmo morti Ah e poi naturalmente io non contenta Entusiasta Ho comprato il canto delle stelle Ho detto oddio guarda L'ha fatto uscire un altro Forse questo sarà meno peggio E' peggio di Furuba Cioè questo, questo Con questo ho piangito ancora di più Guns l'ho recuperato in realtà negli ultimi anni Perché quando ero più piccola Me l'avevo fatto prestare da una mia amica E i numeri Unc si faceva un po' fatica a trovarli Quindi l'avevo letto un po' E invece poi quando Planet Manga Ha ricominciato con questa edizione Me lo sono recuperato tutto quanto E mi piace tantissimo Non mi chiedete cosa succede alla fine Perché penso che nemmeno l'autore lo sappia Però comunque se vi piacciono i channel Con un sacco di mostri, botte, sangue È il fumetto che fa per voi E dietro cosa c'è? Dietro c'è One Piece Dietro c'è One Piece Tutto questo ripiano È occupato da Titekuvo E dal suo Bleach L'altro questo volume l'ho comprato proprio quando è uscito Cioè Bleach l'ho seguito tutto sin dall'inizio L'ho anche aspettato E' molto piccola L'autore di 51 modi per salvarla È questo autore qua Ed è il manga che ha fatto anche Lichi Hikari Club Che non abbiamo qua perché è un'altra delle cose Che sto leggendo a Maratea per un video segreto Esatto Ed è un fumetto molto figo Parla di un terribile terremoto che distrugge Tokyo E di due ex compagni di classe Lui è un ragazzo che cerca di entrare in una grossa compagnia Quindi è tipo gioca a cravatta tipico salarimenda E lei invece è una gothic lolita Superfissata con una band Si incontrano sul Rainbow Bridge Niente hanno tutto quanto questo percorso insieme In realtà questo è il classico fumetto fatto con Le immagini del film copiate e incollate Quindi non è niente di che Però in realtà ha un valore sentimentale Perché come per tutti La Princess Mononoke è stato il primo film Di Yao Miyazaki che qua in Italia Si è visto al cinema L'abbiamo visto io e mio padre Perché mio padre era un appassionato sfigatato Del fumetto di Nausicaa E quando ho visto questo in fumetteria Cioè io avevo voglia di altro Miyazaki E quindi me lo sono comprato E l'ho ottenuto fino adesso Qui abbiamo uno dei miei manga preferiti in assoluto X 1999 delle Clamp È un fumetto che ha una storia terribile Anche una storia editoriale terribile Perché è il numero 18 Le Clamp hanno deciso di fermarsi Quindi non sapremo mai la conclusione di questo fumetto Che è durato veramente tantissimo I disegni sono stupendi Kamui è il personaggio più emo Che sia mai stato concepito In realtà penso che se lo rileggessi adesso Naturalmente troverei mille difetti Mille cliché Però è proprio un fumetto che ho amato tanto Quindi non posso giudicarlo davvero Oddio qua dietro invece c'è uno dei miei fumetti preferiti Ed è Host Club Ed è uno dei fumetti più stupidi E divertenti che io abbia mai letto La protagonista Harui Perché questa qua è una ragazza Si finge un host No no la storia è più complicata di così In pratica lei è super povera Ha vinto una borsa di studio In questa scuola d'elite di mega ricchi Entra per sbaglio in un aula Cercando un posto tranquillo dove studiare E rompe un vaso di inestimabile valore E Tamaki So Il presidente del Lost Club Nei licei a scuola In Giappone hanno tutti quanti i club diversi Tamaki ha creato Lost Club Per intrattenere le studentesse E dice che per ripagare il debito Doverà fare l'host Però non si rende conto immediatamente Che Harui è una ragazza Perché si taglia i capelli corti Perché così risparmia tempo Ed è super super divertente Qui invece abbiamo tutto My Hero Academia Che è accanto a I am a Hero Non è fatto apposta No non è fatto apposta È bellissimo questa cosa E effettivamente non potrebbero esserci Due fumetti più diversi Tra l'altro quando ho iniziato a leggere Questo fumetto Ero super sicura Si trattasse di uno slice of life Della vita di lui Chi vuole fare il mangaka E a un certo punto invece Sono arrivati degli zombie Qui invece abbiamo tutto quanto Bakuman Della coppia Oba e Obata Io adoro Takeshi Obata Uno dei miei mangaka preferiti Qui sempre altre opere di Obata Abbiamo il primo di Platinum E questo fumetto Che è stato difficilissimo Da recuperare Non so perché era super raro Molto carino Adesimi il regalo E poi abbiamo anche Noragami Con una storia editoriale italiana Un po' travagliata Ma è veramente Uno shonen super bello Che vi consiglio Qui è inutile Che io vi tiri fuori I volumi Perché si vede già Di che cosa si tratta Abbiamo Tutto quanto Naruto Prima edizione nera Adesso giusto così Per rappresentanza Virerò fuori Il numero 16 Questo fumetto Veramente È uno dei miei preferiti In assoluto È stato un fumetto Che mi ha sognato tantissimo E quando ero più piccola Desideravo ad avere Diventare un Okago Un giorno Ma anche il primo numero Di Naruto In giapponese È il 3 È il 16 Wow Non lo so Poi tra l'altro È il numero Che ho preso a caso Di sopra Quindi è ancora più Wow A caso Poi abbiamo Uno degli shojo Che mi piace Uno di più Quando ero più piccolo Ovvero Mars di Foglio Misorio Che è l'autrice di Cesare Ed è anche l'autrice Di Eternal Sabbath Che è un titolo Non c'entra niente Con la storia La storia parla Di poteri esper Di esperimenti Sugli esseri umani È molto figa La storia Però il titolo Non lo so Non lo capisco Questo invece È un altro shojo Di una mangaka Che mi piace tantissimo Che si chiama Nagamu Nanaji E fa delle illustrazioni Veramente bellissime Questo fumetto Però è veramente pessimo Cioè proprio noiosissimo Io l'ho comprato Solo perché mi piacciono Tantissimi i disegni Perché sono un suo fan Passiamo poi invece Al ripiano della vergogna Questo è il ripiano Del Guilty Pleasure Per eccellenza Perché abbiamo Kaori Yuki Kaori Yuki Con il suo terribile E terricissimo Angel Sanctuary Che è proprio un fumetto Che anche Michele ha amato Durante l'adolescenza Non sopevo Mi dovessi vergognare Ma effettivamente A me piaceva molto Mi sa addirittura Che ho comprato L'anime in cassetta Sì Erano tipo Solo tre puntate Che erano Le uniche tre puntate Che erano uscite Naturalmente Dietro Angel Sanctuary C'è tutto Il Kaori Yuki Presenta Quindi tutte quante Le sue storie brevi E le prime storie Del conte Kane Da cui poi è uscita La serie di God Child Che è la mia opera Preferitissima Di Kaori Yuki Si può dire Opera preferitissima? Allora A me piaceva moltissimo E tra l'altro Mi sono appena Reso conto Che il primo titolo Che avevamo dato A Masked Era God Children Chiaramente Kaori Yuki Ci ha attraviati Entrambi Durante l'adolescenza E poi concludiamo Con due autori Che sanno disegnare Le mani E le facce Dice a differenza Di Kaori Yuki A differenza Di Kaori Yuki E abbiamo Aikyuu E abbiamo Aono Exorcist Ovvero Blue Exorcist Mi piace davvero Tantissimo Il character design Di Blue Exorcist E anche di Aikyuu Mi piace moltissimo E io vorrei Puntualizzare Che quando vedete Una serie incompleta La verità è che Dietro c'è tutto il resto Si esatto Infatti qua dietro Continua Aono Exorcist E qua dietro Continua Aikyuu Quindi inutile vi faccio Cosa c'è dietro Perché c'è esattamente Quello che c'è anche davanti Due scaffali intrusi In cui ci sono Parecchie cose A cui ho lavorato Ad esempio c'è John Do Ho eserdito la prima volta In assoluto In eticola Con questo albo Scritto insieme A Lorenzo Bartoli Che era stato anche Il mio insegnante Alla scuola internazionale Di comics C'è anche Longway C'è anche Longway Una serie del laurea Su cui ho lavorato Che aveva come protagonista Un ragazzetto cinese Esperto di arti marziali Che arriva a Roma E inizia a risolvere Problemi fondamentalmente Invece consiglio tantissimo Tantissimo La serie Mercurio Loi Ambientata a Roma Dal secondo numero Inizia a diventare Molto interessante E dal terzo in poi Praticamente si alternano Solamente capolavori Inarrivabili Del fumetto italiano Proseguiamo Con l'ancor più Mastodontica Libreria degli americani Barra francesi Barra italiani Questa lunghissima fila In basso È dedicata All'universo Ultimate Della Marvel Là nel cubotto Di destra Ci sono delle altre Saghe Marvel E DC Un po' mischiate Quando cambieremo casa Faremo sicuramente Un po' più di ordine Sono davvero un pessimo Collezionista Però ho i numeri 1 In condizioni terribili Di tutte le serie Ultimates Partendo da Spider-Man Di Bendis E Bangley Era davvero Straordinaria Questa serie La migliore serie Di Spider-Man Mai creata Di X-Men Di Miller E Qbert Di Ultimates Una delle serie Che ha ridefinito Il mito Dei supereroi Naturalmente Tutta la serie Che ha i favolosi Disegni Di Brian Itch E infine Forse quello Meno riuscito Cioè I Fantastic Four Sempre Di Bendis E Miller Alla scrittura E con Adam Hubert Ai disegni Sempre in questo scaffale Abbiamo La prima edizione In inglese Di The Umbrella Academy Sia della Prima stagione Che della Seconda stagione Quando è uscito Mi ha davvero Fatto schizzare Il cervello Fuori dalle orecchie Sempre in edizione originale Haunt Una serie pazzesca Che vedeva McFarlane Kirkman Hotley E Capullo Al lavoro Sulla stessa serie Cast più figo di sempre La serie Non è granché Purtroppo Naturalmente Ero sicuro Comprando il numero uno Di aver fatto Un investimento Per la vita E invece Non è stato così E poi La bellissima serie Di Occhio di Falco Che ha ricostruito Da zero Il personaggio Della coppia Aya e Fraction Se non l'avete mai letto È una delle letture Che consiglio sempre di più Perché vi dimostra Quanto si possa fare Con il fumetto Quanto si possa usare Quanto si possa Cambiare le carte in tavola Per una narrazione Completamente diversa Da quella a cui siete abituati Secondo ripiano Dedicato a classici Del fumetto italiano Ci sta Di non battaglia C'è La bellissima Versione Dell'Isola del tesoro Di Ugo Pratt E Mino Milani Naturalmente Non può mancare Pazienza E poi In maniera Assolutamente random Ci stanno Tutti i fuori formati Tra i battai Di Yvonne E Martin Un capolavoro In 16 noni De 300 di Miller Spunta nelle librerie Di tutti gli appassionati Di fumetti Dal 1998 L'Eternauta Classicone E il cofanetto Con tutte le avventure Di Calvin Hobbes In inglese Che ho recuperato dopo Perché naturalmente Prima avevo La mia versione In italiano Che è quella Che ho letto da ragazzino Se avete dei bambini Sappiate che La loro formazione Non sarà completa Fino a quando Non vi comprerete Tutte le strisce Di Calvin Hobbes E gliele farete leggere Vi ringrazieranno E poi Formano il carattere Qua di fianco Cubotto Dedicato a Mike Mignola E a tutto L'universo Di Hellboy Mancano I primi numeri Perché ho Questa versione Della biblioteca Di Hellboy Versione in pelle umana E patto con il diavolo Le tavole così grandi Sono stupende Mignola è davvero Uno dei miei preferiti In assoluto Non siete Dei veri lettori Di fumetti Se non avete ancora letto BPRD Bureau of Paranormal Research and Defense È la serie spin-off Di Hellboy Ma presto È diventata La serie migliore Di Hellboy Probabilmente Anche grazie Agli stupendi disegni Di Guy Davis Altro ripiano Dedicato ai Classiconi Posso farlo vedere? Certo Puoi farlo vedere Questo è Uno dei miei fumetti Preferiti in assoluto È uno dei miei fumetti Preferiti in assoluto Del resto del mondo Accanto a lui Ci stanno Altri caporamori immortali Come Il ritorno Del cavaliere oscuro Di Miller Hanno uno Disegnato da Mazzucchelli E sempre scritto da Miller Della stessa coppia Devil rinascita Che sfumetto Pazzesco Se volete leggere Qualcosa di davvero Particolare Una visione Del supereroe Inedita O almeno Al tempo era inedita Sicuramente Planetary Di Alice E Cassidy È decisamente La cosa che fa per voi In questo ripiano Vi consiglio Sicuramente L'O Di Remender e Tocchini Una storia Fantascientifica Su un mondo In cui l'umanità Si è trasferita Nelle profondità Del mare E ha ricostruito Una civiltà Completamente diversa Da quella che conosciamo Una delle mie serie Comiche Preferite in assoluto De Goon Che si porta dietro Comunque anche Un grossissimo bagaglio Di pulp Botte e mostri Io invece voglio mostrare Jeffy Brown Che è un autore Mi piace moltissimo Che ha fatto una serie Di scrisce e vignette Carinissime Su Darth Vader And Son Sono tutti quanti In inglese Ma credo Forse che adesso Abbiamo iniziato a pubblicarle Anche in italiano Se parliamo di piccolo formato Ma grandissima qualità Io consiglio assolutamente Munkop Carinissimo Con una storia Molto più profonda Di quanto potrebbero far Presupporre La stilizzazione E il piccolo formato Se volete far colpo Su quella zia Che dice che I fumetti Sono roba da bambini Mazzucchelli È sempre la soluzione E il suo libro Storie Edito da Coconino Press Il regalo perfetto Agli scettici Guardando l'anteprima Di questa inquadratura Mi sono reso conto Che questa deformazione Potrebbe sembrare Quella creata Da un grandangolo E invece no È solamente il peso Della bellezza Di questo ripiano Infatti In questo ripiano Ci sono praticamente I miei autori preferiti A partire da Brubaker Con il suo Favoloso Criminal Meno conosciuto Ma decisamente Secondo me Il suo lavoro migliore Dissolvenza Nero Da questa parte Ci sono un po' Delle cose Di Miller In realtà Sono un po' Sparse ovunque Non penso che Abbia bisogno Di presentazioni Il creatore Di fumetti Come Kickass Mentre invece Ce ne sono Di meno conosciuti Ma altrettanto validi Se non più affascinanti Come Starlight Che ha creato Insieme a Goran Parlov Il ripiano Continua con quello Che penso sia Il mio autore preferito In assoluto Di fumetti Che naturalmente È Grant Morrison Se non l'avete ancora letta La sua run su Batman Comprende probabilmente Le migliori storie Di Batman Mai scritte Il suo sodalizio Con Frank Whiteley Ha dato vita Sin dall'inizio A storie Meravigliose E contorte Flex Mentallo È sicuramente Una delle più belle Potete vedervi L'altro video In cui ho sfidato Fiore a leggere Sette fumetti In sette giorni Che poi alla fine Erano 31 Per sentire invece La mia Su All Star Superman Uno dei miei fumetti Preferiti Il primo ripiano Dedicato ai Gommatini Cartonati Della Panini Nella collana 100% HD Ci sono cose Meravigliose Come Deadly Class Di Wes Craig E Rick Remender Ho acceso Una luce Per farvi Gustare Appieno I colori Folli di coda Di Mattias Bergara E Simon Spurrier E Simon Spurrier Spurrier Questa è stata Una delle sorprese Per me Dell'anno scorso Un fumetto Fantasy apocalittico Le tavole Di Bergara Sono un Tripudio Southern Bastards È una delle serie Più cattive E sporche Che troverete In circolazione Della coppia Jason Aaron E Jason Latour Prosegue lo scaffale Con delle serie Marvel Che mi sono piaciute molto Negli ultimi anni Il Thor Sempre di Jason Aaron Doctor Strange Sempre di Jason Aaron Il Silver Surfer Di Sloth E Old Red E naturalmente Il bellissimo Visione Di Tom King E Gabriel Valta Tra l'altro Se state vendendo La serie originale Banda Vision Vi assicuro Che molto Dell'ambientazione Dell'atmosfera Soprattutto Della serie È presa Direttamente Da questa Miniserie Di Tom King Tra l'altro Non vedrete tantissimi Fumetti di Tom King Nella mia libreria Molto semplicemente Perché li abbiamo già portati Tutti a Maratea Altro bellissimo Ripiano Anche questo Abbastanza Piegato In cui abbiamo Kideon Falls La run di Batman Di Snyder e Capullo The Walking Dead Che è l'unico Kirkman Di cui non ho tutto E soprattutto Che non è nel reparto Dedicato a Kirkman Preacher Di Dillon E Dennis Sin City Di Miller East of West Di Hickman E uno dei miei preferiti In assoluto Degli ultimi anni Ed Looper Di Andrew McLean Le sue meravigliose tavole Mignoleggianti E il suo fantasy Pieno di mostri Non potranno che affascinarvi In coda Ma non certo per importanza La nuova versione Di Umbrella Academy Edita da Bao Publishing Se non vi è piaciuta La serie Netflix È decisamente Il fumetto per voi Perché c'entra davvero poco Con quella serie Se invece vi è piaciuta La serie Netflix È decisamente Il fumetto Che fa per voi Perché è decisamente Meglio della serie Sto chiaramente Combattendo Contro la tentazione Di parlarvi Di ogni singolo fumetto Che sta in ogni singolo ripiano Cercherò di resistere Dicendo semplicemente Che qua ci sono Parecchie Cosette marble Che mi piacciono molto C'è la serie Dedicata all'Uomo senza paura Scritta da Wade E disegnata Da Marcos Martin Per questi primi numeri E poi proseguita Dallo straordinario Chris Sumney C'è qualche rimanenza Del Un altro ripiano Con collezioni incomplete Che sono già state Spostate a Maratea Manca l'ultimo volume Di Scalped Che mi ha trovato E regalato Quest'anno Fiore I primi numeri Di due Tra le serie Più divertenti Fatte da Alan Moore Sì perché Anche Alan Moore Fa cose divertenti Come una serie Tutta dedicata A un distretto Di poliziotti Supereroi In un mondo In cui ci sono Solo supereroi E un titolo Particolarmente strano E supereroistico Dedicato a Una monade Un'idea Che è anche Una supereroina Il secondo volume Dedicato alla Lega degli straordinari Gentleman Continua a essere Uno dei miei Fiumetti preferiti In assoluto Non poteva mancare La collezione Completa di Torpedo Di Bernet E Aboulie Un ripiano Dedicato ai nostri Cuginetti francesi In cui ci sono cose Bellissime Ve ne faccio vedere Solo alcuni Come ad esempio Questo bellissimo Long John Silver Scritto Da Dorison E disegnato Da L'Offre È la storia Di pirati Definitiva Passiamo Al Mezzo ripiano Dedicato a uno Dei miei autori Preferiti In assoluto Un'altra volta Lo so L'ho ripetuto Che è Bastian Biver Una sorella È il suo capolavoro Da solista La storia di un amore Estivo E della scoperta Della sessualità Da parte di un ragazzino Ma il meglio Della sua produzione Arriva insieme E con l'aiuto Di Saint-Laville E Balak Nella Sua serie Franco manga Euro manga Ditelo come vi pare Una storia bellissima Last man E la mia serie preferita in assoluto L'ho detto L'ho ridetto La mia serie preferita in assoluto Il più riuscito ibrido Tra il fumetto occidentale E il manga Una piccola nota a margine Come cavolo è possibile Che la mundane Della coppia Zydrulafevre Ancora non si è pubblicato in Italia Da questa parte Di questo nuovo scaffale Finisce Lo scaffale francese Ci sono il bellissimo Ci sono il bellissimo Kairos È uscito finalmente Quest'anno Per edizioni BD Questo è uno Dei miei fumetti preferiti Ve ne abbiamo anche già Parlato veramente tanto Negli scorsi video Quindi Se non l'avete ancora letto Perché non l'avete ancora letto Cioè vi abbiamo detto Almeno in 20 volte Vi abbiamo Almeno detto in 20 video diversi Che dovete leggerlo Quindi fatelo Leggetelo Chi mi conosce Sa che sono un appassionato Della fortezza Questo è il primo volume Il secondo ce l'ha mandato Bao E ce l'abbiamo ancora A Malatea E secondo me Uno dei fumetti più belli Proprio visivamente Più belli Degli ultimi anni Che è L'età dell'oro Di Cyril Pedrosa Scritto da Roxanne Morel Vi consiglio poi Questo fumetto Veramente adorabile Che ho amato tantissimo Sempre addito da Bao Che è il principe e la sarte I disegni poi Sono veramente bellissimi Lo stile dell'autrice Mi piace da matti Altro fumetto Che mi piace veramente tantissimo È Saga Adoro i personaggi La storia super matta È divertentissimo È anche molto commovente Due chicche Dal catalogo Bao È l'opera prima di Timoteo La boucher Le boucher Le boucher Non so come si dica I giorni che scompaiono Una storia davvero inquietante È molto commovente E poi Green Manor Green Manor è una raccolta di 16 racconti criminali Ambientati in epoca vittoriana Solo una piccolissima parte della mia collezione di fumetti di Kirkman Outcast, Firepower e altre serie sono già maratea Qua c'è la mia versione super deluxe di Invincible L'ultimate collection americana Invincible è la più bella serie di supereroi di sempre Confermi Fiore Sono molto d'accordo E invece io vi consiglio questo fumettino Che è una sorta di strano spin off di Invincible Visto che questo è il fumetto che legge Mark Grayson Il protagonista di Invincible Questa è la prima se non sbaglio apparizione Dei Super Sons insieme in Superman Volete leggere davvero una storia matta Ma che in due numeri crea una tensione assurda Vi consiglio tantissimo Discesa all'inferno di Gar Tennis e Goran Suzuka Uno dei super classici per gli appassionati di Punisher Barracuda di sempre Gar Tennis con Goran Parlov Qui c'è una parte della mia collezione dei Conan Dei classici Infatti ci sono anche i lavori di Bouchemma in questa collezione Passiamo ad un altro scaffale In cui ci sono parecchie storie edite dalla tonne Io adoro Sofia dell'Oceano scritto da Marco Nucci Però ormai penso che avrete capito che sono proprio un fan di Nucci Sempre parlando di fumetti per ragazzi Atlas and Axis È una serie bellissima con animali antropomorfi I disegni come potete vedere sono stupendi Un altro po' di fumetti italiani Il mio preferito di palloni Esatto Il bellissimo Anguiso Machia Vi assicuro che contiene una bellissima storia con disegni pazzeschi Al piano di sopra abbiamo parecchi dei miei tex Naturalmente ce ne stanno molti altri a casa di mio padre Che era un collezionista di tex Ultimo ripiano di questa gigantesca libreria C'è uno dei miei tex preferiti Che è Patagonia Nella versione di lusso che ha fatto la Bao Qua sopra c'è anche parte della mia collezione di pick up Pick up è probabilmente il fumetto che mi ha fatto scegliere di fare il fumettista Se avete dei ragazzini o se vi piacciono i bei fumetti Compratevelo Ci sono delle nuove versioni un po' di lusso fatte dalla Panini È davvero la serie definitiva per chi ama la fantascienza ma anche la Disney E accanto a pick up l'altra serie cult di quel periodo Che è MM, Mickey Mouse Mystery Magazine Era una storia noir scritta da Faraci Con Topolino come protagonista che non è più a Topolinia Ma si trova in una città molto più sporca e dark Da ragazzino mi facevo impazzire perché era un fan di Marlo E in realtà molte dell'atmosfere paradossalmente anche se è un fumetto da ragazzini Ricordano moltissimo quel tipo di noir Recuperiamo adesso la piccola libreria di manga In questa libreria abbiamo un po' di manga Che abbiamo deciso di raggruppare Fumetti che vi voglio segnalare Cesare di Foyumi Storio Al contrario ovviamente Che è un'attrice che amo da tantissimi anni Su Cesare è veramente bellissima Quindi se siete appassionati di storia Ma anche se siete appassionati solo di fumetti molto belli Di disegni meravigliosi Cesare è super consigliato Io invece vi consiglio Parker di Darwin Cook È un intruso in questa sezione di manga Ma ha un formato molto particolare E la scelta della bicromia per i disegni Darwin Cook è uno dei pilastri della vecchia guardia Del comics americano E lo dimostra in delle storie stupende Tratte dai romanzi di Richard Stark Andiamo un pochino alla mia zona Gritty Pleasure di manga Che qua sopra adesso Poi ve ne parlerò Ma c'è già un piccolo spoiler Invece qua Autori, autolici Vi voglio segnalare Innanzitutto questo fumetto Adekan Ha dei disegni pazzeschi Tsukijinao mi piace tantissimo Anche un sacco di suoi artbook Sì Michele lo so che La cassa della toracica di Shiro È molto molto sbagliata Però i disegni sono bellissimi Quindi io ci passo veramente molto sopra Un fumetto invece che Molte costole Un altro fumetto che vi segnalo Che in realtà conoscono a vera in pochissimi Però a me piace moltissimo È Brave 10 Parliamo di Sayuki Mio grandissimo amore Io amo la Minekura Che è l'autrice E ho tutti quanti i volumi di Sayuki Io ve lo consiglio Naturalmente se non lo conoscete Da questa parte invece Ho questi fumetti Questi manga di Star Wars Che sono in italiano Però non so perché La copertina è in giapponesse Che ho comprato quando ero piccola Ah e qui invece Un fumetto in cinese Di Old Xian Che è la mia utilice Cinese preferita Non è mai stato pubblicato In Italia E quindi l'ho comprato su Taobao Insieme al suo artbook Altra edizione molto bella Che voglio segnalarvi È questa nuova edizione Di Star Comics Di Sailor Moon Che non so se si vede in video Però la cover è glitterata Ed è veramente una bellissima edizione Con anche gli inserti Delle varie copertine Di capitoli A colori Se siete delle facciate di Sailor Moon Ma anche se non lo siete E volete recuperare comunque Un titolo che ha fatto storia Questa è l'edizione che fa per voi Qui c'è sempre altro Sayuki Perché ho tantissimo Sayuki Ho anche dei volumi più di uno Di Sayuki in giapponese Perché a un certo punto Avevano interrotto la pubblicazione Di Sayuki Gaiden in Italia E sono andata in Giappone E mi sono comprata I volumi in giapponese Sono pazza? Sì, lo sono Questo buco è perché Uzumaki è in due volumi di Junjito Stammaratea Perché l'ho portato Per leggere Michele Qui abbiamo tutta la sezione Junjito Anche qua abbiamo altro Junjito Qua invece tutto Clamp In realtà c'è anche un po' di Ayazawa Comunque qui ho alcuni Dei miei fumetti preferiti Dico quando ero più piccola Ovvero Tokyo Babylon Delle Clamp Che non posso tirar fuori Perché sono tipo cementati insieme Questi volumi E Rayart Qui però ho anche La nuova edizione Sempre di Star Comics E ora sono molto indecisa Se tenere questa qui nuova O questa qui Molto molto vecchia Che ha 200 milioni Quella nuova In questo ripiano invece Io consiglio Planetes Di Makoto Yukimura È una bellissima storia Sui viaggi spaziali Passiamo al mobile Sotto la finestra Questi sono fumetti Che ho scritto io Io non sono tutti Perché stranamente Mi dimentico di comprare I miei fumetti Questo naturalmente È Muscat Che abbiamo realizzato Con Fiore Qua c'è Caput Mondi Che è la serie Da Edicola Che ho realizzato Con Dario Sicchio Dopodiché ci sono I Dylan Dog In realtà Mi sono anche reso conto Che ad esempio Qua ho le mie Piccole autoproduzioni Questo ad esempio È Elvis Questo è Quasi Super Che ho realizzato Con un altro Mio grande amico Che è Giulio Voltieri Disegnato da Ludovica Ceregatti Poi invece Qua sotto Abbiamo i vari Artbook Dedicati a film Ci sono questi due Bellissimi Su Ralph McHenry Il libro Nel Natasha Su Bond Ma ci stanno anche Cose sull'animazione Come The Legend of Korra Che continua a essere Una delle mie serie Animate preferite Svariati sketchbook Come ad esempio Il bellissimo sketchbook Di Werther dell'Edera Che è un disegnatore Meraviglioso Che negli ultimi anni Sta lavorando in America Qua da questa parte Abbiamo Quasi tutto Dedicato al cinema Concludiamo Con la libreria del salone Questo primo scaffale Abbiamo La serie di orfani A cui ho lavorato Orfani Nuovo Mondo Se non sbaglio Ho esordito Sul secondo numero Disegnato da Maconi Molto molto bello Poi abbiamo Un po' di Zero Calcare E poi abbiamo Un po' di Mio fratello Giacomo Con Il suono del mondo a memoria E A Panda piace l'avventura Una piccola nota di colore Ho aiutato Giacomo A mettere a posto Il lettering Di A Panda piace l'avventura Probabilmente non ci sarebbe Il fumetto senza di me Andiamo al piano di sotto Guarda che pieno di effetti speciali Questo video Questo secondo ripieno È di nuovo un ripieno Bau comunque Sì è di nuovo un ripieno Bau C'è in realtà anche qualcosa Di panini Comunque un altro ripieno italiano Iniziamo da Sensombra Da Sensombra Un capolavoro Della letteratura moderna Tra l'altro Questa è la mia copia No? Penso di sì Per fiore con stima Eh non ti conoscevo ancora Quando te l'ho regalato Tra l'altro infatti Ci siamo conosciuti Perché mi hai regalato Il suo fumetto Sì Ti stimavo come autrice Che è una cosa Molto romantica In realtà Poi c'è un po' di bellizzonna Ma soprattutto Il fantastico duo Paliaga Carlo Magno Che tra l'altro Ha fatto la mia serie italiana Preferita praticamente Di sempre Che è Acqualunga Se vi piacciono X-Fights Buffy Se vi piace Lost Assolutamente Non potete perdervi Acqualunga Ho visto che tu parli Dei tuoi amici Parlo anche io Dei miei amici Qui abbiamo Il fumetto di Dado Prima di Pai Io con una fascetta di Giacomo Plot Hall di Dado Che è il primo fumetto Che ho fatto con Fiori Trinelli Comics New Brothers Di Alice Ciao Alice C'è anche Space Opera Sempre di Jacopo Space Opera di Jacopo Ma ve ne avevamo Anche già parlato Sì ne avevamo già parlato Lo dovreste già conoscere E tra l'altro Disegneremo anche Questo spillatino Che è disegnato Da Ilaria Che è la nostra Disegnatrice di Muscat E io invece Vi consiglio Fortissimamente Walter dice E Chiodo Torto Della premiata coppia Dario Sicchio E Lorenzo Magalotti Ripiano degli amici Ripiano degli amici Sì esattamente Se non siete in questo ripiano E siete i nostri amici Non vi preoccupate Siete da un'altra parte Nella libreria Ma vi vogliamo bene lo stesso Porto Proibito Le ragazze del pirata E Tosca dei boschi Tutti e tre Di Teresa Radice E Stefano Turconi E questo era il nostro Comic e Bookshelf Tour Più o meno Spero che vi sia piaciuto Se avete qualche cosa Da raccontarci Su qualche edizione Che avete visto E vi è particolarmente piaciuta Vi aspettiamo qua Nei commenti Se questo video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale E attivate le notifiche Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao